Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa apertura di un pacco di patatine di Waco's Cercherò di trovare uno di cose 5, per ora ho cose 2 Vediamo di trovare un altro Iniziamo ad aprire Ecco Oh cacchio ragazzi ce ne sono 2 Perfetto Sento che in questi pacchi ce ne trovano sempre 2 Cominciamo al primo E vai, meno male che ho fatto pure il video Ma buonanotte Con le mani di olio Ce l'avrò Ragazzi Sì E vai, ora sono tutti gli skateboard E l'ultimo sarà Vediamo Fatto con i denti E troviamo No, che cacchio Peccato E' come se valesse Diciamo, 1 Perfetto Vabbè, non so questo Non so che farmene Lo scambio No scherzo Lo darò a mio cugino E per questa apertura E' tutto Iscrivetevi al nostro canale Commentate Mettete mi piace E ci vediamo alla prossima E ci vediamo a tutti i ultimi E ci vediamo a tutti i ultimi